È una partita che abbiamo all'inizio interpretato in maniera un po' molle, un pochino noi, anche per merito di Avellino che invece è partito con il Pio giusto. In un paio di occasioni iniziali è stato bravo Ragni a salvarci, ovviamente è impossibile far saltare di testa dei giocatori che conoscevamo come sono riusciti a fare, però poi alla fine è stato bravo il portiere, abbiamo subito ancora per tanta parte del primo tempo, anche se poi, e anche altre occasioni, però devo essere sincero, avevo mano a mano chi passava la partita la sensazione che potessimo giocarla in maniera diversa. Poi nella fase finale del primo tempo abbiamo nell'unica occasione fatto gol, non credo che sia la prima volta che succede nel calcio, insomma che è una squadra che magari crea un'occasione va in gol, sono rimasti tutti sorpresi nel senso che succede, a me mi è successo tante volte. Però è chiaro che eravamo immeritatamente in vantaggio, Avellino aveva fatto tanto più di noi. Secondo tempo ci aspettavamo Avellino, quello che avrebbe fatto sotto la propria curva, spinta dai tifosi e spinta anche dal desiderio di pareggiare. Noi dovevamo fare qualcosa di più, non che subissi, in quel momento c'era tanta confusione, calcio d'angoli, alcuni dei quali creati più che della forza di Avellino, nei nostri rinvii, in alcuni casi veramente imbarazzanti, sto parlando di rinvii, di possesso palla. In una situazione c'è stato il pareggio di Castaldo e lì poteva essere un'altra partita, per noi più difficile. Invece piano piano abbiamo ripreso coraggio, abbiamo credo nell'ultima parte della gara giocato a calcio, come avremmo dovuto fare magari all'inizio del secondo tempo. Avellino ha ricreato un paio di occasioni, però noi abbiamo avuto tre o quattro occasioni importanti, quella con Bianchi, quella con Varela all'ultimo di testa, quella con Mogos sul lancio di Buzzecoli, che senza rito benissimo non ha colpito l'episodio. Adesso ripeto, non so niente, quindi così mi dicono, dell'eventuale rigore. Capite che se in mezz'ora tu crei quattro palle gol, comunque sia, significa che alla fine ci può stare il punteggio. Poi se uno fa l'Avellino nove palle gol, noi sei, ma questo non è calcio. Mister, pochi istanti fa c'è stato l'abbraccio con Walter Novellino, che idea si è fatto in generale dell'Avellino e soprattutto di questo incredibile campionato di Serie B, un campionato che però ritrova un grande allenatore come Sersa Cosme? La ringrazio innanzitutto per il complimento, è un campionato incredibile, lo sto frequentando da diversi anni, è strano come quest'anno, non mi era mai capitato, ma lo dimostrano. Adesso ci può stare che 1-0 fai 1-1, è sempre successo nel calcio, ma qui 3-0 diventano 3-3, 2-0 diventano 3-2, 2-0 2-2 in due minuti e devo capire se c'è più voglia fino alla fine oppure c'è più disattenzione, attenzione perché ai tempi nostri, quando vincevi una partita 2-0, poteva succedere ma era molto più complicato, quindi c'è una mancanza di gestione delle partite, questo è quello più evidente. Se mi chiedi di Lavellino ti dico che Lavellino, dico una cosa che magari qui conoscete sicuramente meglio di me, Lavellino ha fatto un giro di andata in due tranche, la prima arriva fino alla partita con la Saternitana e la seconda era la Saternitana in poi, lì c'è stata una linea di demarcazione, credo, prima guardavo le partite da esterno dove Lavellino ha fatto punti, era in una situazione di classifica e proponeva anche un buon gioco, un ottimo gioco insomma. Quella sconfitta ha creato più problemi di quanto doveva crearne, come spesso a volte succede in ambienti dove perdi una partita con una squadra che non vorresti perdere, lì sono venuto a mancare qualche sicurezza, qualche giocatore, qualche risultato, alcune rimonte subite, poi invece nelle ultime due partite Lavellino ha rimontato due partite, quindi vedete che il calcio a volte rende quello che toglie, quindi io credo di poter dire questo, ma Lavellino è più facile che nel giro di ritorno si avvicinerà alla zona medio alta della classifica piuttosto che scenda, quello è sicuro. Mister, che cosa ha detto a Perez e come ha visto Perez dopo quello che è successo quest'estate? Lavellino è entrato dopo ma sicuramente lo saprà. No, no, io non so niente di quello che è successo prima, io sono arrivato ad Ascoli con un lavoro di un allenatore che ho apprezzato, io non sono il viacchetto di turno che entra e comincia a dire che chi ha lavorato prima ha lavorato male, che i giocatori non è preparati atleticamente, la squadra è a posto atleticamente, ha lavorato su dei concetti veri di calcio, c'è avuto solo purtroppo una serie di situazioni, non ultimo il fatto che i due attaccanti titolari, uno ha finito la stagione, Favilli, e uno è fuori da un mese, nella stessa partita tra l'altro, che l'esterno sinistro, Mignanelli, manca da tanto tempo, che i giocatori sono andati incontro a qualche problemino e quindi Perez è uno di questi, io sono entrato, quando entra l'allenatore di nuovo si resetta tutto, e risettare tutto per me significa essere poi correnti con quello che si dice, e quindi succederà questo fino a gennaio, poi se cambieranno qualche giocatore vedremo. Sono state sempre voci di popolo, Cersei Cosmi in passato è stato vicino alla panchina dell'Avellino? Ma io non ho parlato mai con nessun dirigente dell'Avellino, quindi questa è la verità, siccome a volte non basta neanche parlarci con i dirigenti, perché a me mi è capitato di parlare con qualche dirigente che mi ha detto che dovevo andare su con la valigia pronta perché sabato sarei dovuto andare in panchina, poi non si è realizzato niente, allora figuriamoci che non basta quello, no, no, l'Avellino è una piazza importante dove non a me credo farebbe piacere a tanti allenatori venirci, però io ho voluto fare questa sfida perché vado dove mi chiamano, l'Ascoli mi ha voluto, i tifosi mi vogliono, la società mi ha voluto, e era giusto che andassi, ormai vedo il calcio così, vado dove mi cercano, non dove vorrei che mi cercassero oppure fanno solo chiacchiere. Grazie.